Ospite di questa settimana del Sassonello Stagno è stato il sindaco di Omegna, Daniele Berio. Sindaco Berio, qual è la posizione sua, della sua amministrazione, per quanto riguarda un tema che da decenni è al centro delle polemiche nella nostra provincia? Cioè il futuro della nostra sanità, o meglio, della nostra sanità ospedaliera. Qual è la sua posizione? La mia posizione, la posizione della mia maggioranza è nota. Noi siamo a favore dell'ospedale unico baricentrico, anzi io vorrei dare un elemento in più. Noi saremmo favorevoli a qualunque, diciamo, ubicazione, a qualunque ubicazione del nuovo ospedale a condizione che ci sia una immediata cantierabilità. Cioè il criterio di scelta è talmente urgente questo tema e talmente, diciamo, abbiamo difficoltà nell'attuale gestione delle visite, delle urgenze, degli spostamenti tra un ospedale e l'altro. Insomma, la questione è diventata veramente imbarazzante, veramente urgente. La nostra posizione è conosciuta. Noi abbiamo anche affiancato il Comune di Verbagna e il Comune di Ornavasso in questo ricorso al TAR contro la decisione del Consiglio regionale di ristrutturare i due vecchi ospedali. I due vecchi ospedali non funzionano oggi, non funzioneranno neanche un domani dopo la ristrutturazione. È una ristrutturazione che richiederebbe tantissimi anni perché chiaramente lavorare con le strutture funzionanti è molto complicato. Io credo che vada costruito un ospedale nuovo in una posizione, e qui faccio un appello a tutti i miei colleghi sindaci, facciamo un gesto d'amore verso gli abitanti di questa provincia. Liberiamoci un po' da questi pregiudizi del luogo più vicino, ma non vicino. Scegliamo il luogo di prima immediata e più immediata cantierabilità. Grazie.